Eminenza, continuiamo con questa seconda puntata del suo diario, per così dire dal sinodo, rivolto alla nostra diocesi. I lavori si sono aperti con l'intervento del Papa, uno dei più significativi di tutto il pontificato, secondo il commento di molti. Sì, però io prima vorrei sottolineare la messa attraverso la quale Santo Padre ha dato inizio all'anno della fede, facendo una memoria viva del Concilio. Perché? Perché è stato un gesto straordinario e commovente, la partecipazione di popolo, la grande processione dei cardinali e dei vescovi all'inizio e la riconsegna dei grandi messaggi che Paolo VI al termine del sinodo del 65 diede alle varie categorie. Quindi all'interno di questo gesto si può proprio anche collocare i commenti che in questi giorni il Santo Padre ha fatto al valore del Concilio. Nel Concilio non si possono, non si debbono separare il grande evento, la straordinaria esperienza di cui il Papa ha parlato dai documenti che ha prodotto. E Benedetto XVI ha insistito sul fatto che un ritorno attento ai documenti, in questo senso alla lettera, è il modo migliore per far emergere l'esperienza potente di Spirito Santo che il sinodo è stato. Bisogna che adesso, nell'anno della fede, questa esperienza ritorni ad essere di tutti i nostri fedeli. Io mi auguro che lo sia anche di tutti gli uomini che vivono nelle terre ambrosiane e che questo possa avvenire sulla base di quella tensione all'annuncio di Cristo nella quale il Santo Padre, che fu testimone diretto del sinodo, ha identificato lo spirito del concilio, non una cosa vaga, astratta, una cosa molto precisa che ha mobilitato le persone e che ci ha lasciato in dono questi testi vitali. Sui media però sono emerse espressioni sommarie, il secolarismo che invade, il problema del matrimonio, della famiglia. Si lamenta un'eccessiva burocratizzazione. Qual è la sua analisi? Diciamo, noi siamo entrati nella prima fase del sinodo bisogna che i nostri ascoltatori conoscono un po' anche come sono le dinamiche. Il sinodo dopo la grande liturgia prosegue attraverso una relazione mediante la quale in questo caso il cardinale di Washington introduce i lavori ricollegandosi a tutti i passi che hanno preparato il sinodo. La preparazione dura da tre anni. Dopodiché tutti i vescovi che sono presenti fino a mercoledì prossimo intervengono riflettendo sull'uno o sull'altro dei punti ritoccati dal cardinale e collegati allo strumento di lavoro da cui siamo partiti. E quindi siamo adesso stiamo entrando dopo circa una sessantina di interventi in questa prima fase. E però vi è anche una seconda tappa molto interessante che è cominciata con il sinodo dell'Eucaristia un grande dono che Benedetto XVI fece allora al sinodo e cioè un'ora di libera discussione che avviene tutte le sere tra le sei e le sette. Oltre che all'ascolto abbiamo avuto la grande possibilità dei nostri fratelli di altre confessioni. Un altro intervento che mi preme sottolineare che ho trovato molto molto bello è stato quello del Cardinal Givic. Questo ha fatto io con l'intervento di taluni padri che hanno sottolineato l'importanza di accostarsi al sacramento della riconciliazione che anch'io ricordo a tutti i nostri cristiani ambrosiani nell'imminenza delle giornate dei morti era una grande tradizione nella nostra terra accostarsi al sacramento della confessione in questa giornata e spero che noi possiamo ricominciare a farlo. Spesso nel dire comune a proposito della presenza dei cristiani nel mondo si usa un'espressione quale declino ritirata sono termini secondo lei pertinenti con le esperienze di chiesa viva che si sta sperimentando? Sono termini molto europei molto occidentali riflettono la stanchezza dell'Europa e in generale del nord del pianeta che purtroppo ha intaccato anche noi uomini di chiesa siamo dei cristiani stanchi la fioritura delle chiese delle vocazioni nel sud del mondo è impressionante la si registra a livello delle chiese locali come la si registra a livello degli ordini religiosi la si registra a livello delle antiche aggregazioni la si registra a livello dei nuovi movimenti e delle nuove comunità bisogna realmente allargare l'orizzonte e renderci conto che siamo entrati in una fase in cui adesso è il sud del pianeta che sta rimobilitando le nostre chiese e forse incominceremo ad assistere sempre di più a un movimento missionario che in provenienza dall'America Latina dall'Africa da parte dell'India verrà sempre più in aiuto al dimagrimento delle nostre chiese qui in Europa e in generale nel nord del pianeta andrebbero fatte molte precisazioni per esempio a proposito della chiesa italiana con le sue differenze tra diciamo la provincia e la metropoli con le differenze tra il nord e il sud e comunque con un dato di fatto che al di là delle fragilità morali e del sorgere di una società plurale sono ancora moltissimi la stragrande maggioranza degli italiani che restano direttamente o indirettamente riferiti ai valori cristiani in conclusione di questo secondo appuntamento di vi racconto il sinodo quale testo dell'assise consiglia di leggere agli ambrosiani io credo che i nostri fedeli potrebbero partire dalla lettura del capitolo della Lumen Gentium dedicato al popolo di Dio dove si vede appunto che tutti i battezzati sono soggetti della vita ecclesiale e questo anno della fede deve essere realmente una resurrezione dell'io in Cristo Gesù e una comunicazione carica di verità di intensità di bellezza di bontà a tutti i nostri fratelli uomini in tutti gli ambienti romani di esistenza bisogna mostrare come abbiamo detto nella lettera pastorale che Dio è veramente vicino a tutti i nostri a tutti i nostri